Bella raga, bentornati in Behind the Gate, chi sono io? Sono Raffaele Musazzi, pilota amatoriale di motocross e mountain bike. Adesso, sigla! Oggi vi porto con me nel sistemare il mio mezzo che uso per andare alle gare, allenarmi a un carrello chiuso e vi farò vedere come lo trasformo, come lo adatto alle mie esigenze. Let's go! Grazie a tutti! Allora ragazzuoli, l'abbiamo quasi concluso, qua c'andrà la moto, qua c'andranno le robe che uso tipo gazebi, stivali e le robe che mi servo. Allora ragazzuoli, purtroppo ho dovuto fare delle modifiche perché purtroppo la moto si ci stava ma non piaceva a me, quindi ho dovuto rimodificare tutto, si come vedete la moto è sporca, adesso mi tocca andare a lavarla. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e noi ci vediamo alla prossima. Ah vi ricordo che iscrivervi al canale e lasciare un bel like è completamente gratuito. Alla prossima! Ciao!